E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ryan Italy Channel. Oggi ragazzi farò un altro pronostico sulla partita Slovenia-Serbia che è già cominciata da un po' però lo faccio lo stesso perché volevo fare il pronostico di questa partita e ci tenevo a farlo. Oggi tra l'altro è una maglietta dell'Hamburgo, sono stati campioni d'Europa nel lontanissimo 1983, cioè ben 40 anni fa, anzi 41. Scusate se sono senza occhiali ma li ho tolti perché sennò veniva troppo il riflesso quando facevo il video della luce, cioè non c'è la luce però sennò veniva il riflesso e si vedeva male con gli occhiali. Quindi li ho tolti per il riflesso e niente faccio questo pronostico e secondo me la partita Slovenia-Serbia, allora io tifo per la Slovenia perché a me la Slovenia mi sta simpatica, ci sono stato, la Slovenia sono una brava persona, secondo me finisce 1-0 per la Slovenia ma a parte quello, che la Slovenia mi sta simpatica, a parte quello lì, secondo me finisce 1-0 perché hanno una squadra molto forte, ho visto i tiri che hanno fatto adesso, tipo gli attaccanti della Slovenia che hanno dei giocatori forti, c'hanno Bijol che giocano in Udinese, c'hanno Oblak il Portirone che ha un muro d'acciaio, c'hanno, me ne vengono in mente altri, c'hanno un altro che gioca all'Udinese, c'è un altro giocatore Slovenia, Slovenia a parte Bijol, che gioca all'Udinese che però adesso mi sfugge il nome, che insomma sono forti, hanno una grande squadra che è fatta per vincere, lo dico io, però anche la Serbia è forte e secondo me il mio pronostico è di 1-0 per la Slovenia, me la sento, sempre Forza Slovenia, se ce l'avessi, peccato che non ce l'ho, ve la farei vedere, però non ce l'ho, cioè, non ce l'ho mai avuta, però prima o poi la comprerò perché la Slovenia è un'altra di quelle squadre che mi sta simpatiche, Forza Slovenia, mi sono messo quella dell'Hamburgo perché quando non ho una maglia di una nazionale mi ne metto un'altra, o di calcio o di un altro, o non di calcio, di un altro tipo. Ciao ragazzi e buona partita, ciao, Forza Slovenia!